Siamo in Piazza Santa Giusta, le nostre spalle Palazzo Centi, dimora della famiglia Centi in passato e poi sede della Presidenza della Regione. A breve anche questo edificio storico verrà cantierizzato, finalmente è tutto pronto. A breve inizieranno i lavori anche a Palazzo Centi, in pieno centro storico, storica sede della Regione Abruzzo di rappresentanza. Una gara d'appalto complicata ed estenuante ed anche un'inchiesta sulla gara d'appalto del 2015 da parte della magistratura che di certo rallentato i lavori. Sarà una ditta diserni ad eseguirli per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro. La determina è stata firmata soltanto qualche giorno fa in Regione e a breve l'edificio verrà transennato e sarà installato il cantiere per far partire finalmente i lavori. Un palazzo storico, gravemente danneggiato dal terremoto dell'aprile 2009, che nelle scorse settimane peraltro è stato per esigenze cinematografiche trasformato nella sede della prefettura dell'Aquila, con la scritta prefettura ricomposta per poter girare l'Aquila a grandi speranze, la fiction ride di Marco Risi che andrà sul piccolo schermo in ottobre e che racconta il terremoto aquilano, dalle scosse a quella mortale, sino ad arrivare alle fasi complicate della ricostruzione. Palazzo Centi era la sede della famiglia Centi all'Aquila in Piazza Santa Giusta, nel cuore del centro storico. Nel 2002 però l'edificio fu acquisito al patrimonio della Regione, dal 2006 divenne sede istituzionale della Presidenza della Regione Abruzzo. Per il restauro di Palazzo Centi ci sono 3 milioni di fondi per la ricostruzione degli edifici pubblici e 10 da una delibera Cipe datata 2012. Il palazzo doveva essere restituito alla città nell'aprile del 2018, ma di certo, viste le lungaggini, le date andranno certamente riviste.